Un topazio, che il topazio è un topo che è diventato zio, pensa Cristo, sono appena morto, Cristo Ciao carissimi bolletti, questo qua è electric Non so se lo sapete ma noi stiamo giocando a Zelda ultimamente e non facciamo altro che giocare a quello A parte le stupiraggine stiamo giocando così tanto per cazzeggio e oggi dobbiamo raggiungere almeno altri 3 sacrari che stanno alle spalle dei Link su quei torri gemelli Quindi su quei monti gemelli, che torri gemelli, torri gemelli, che vuol dire? Niente Sui monti gemelli, infatti sentite che il segnale si fa sempre più forte? Per arrampicarci fin là su in cima quindi dovremo utilizzare quel poco cibo che ho che mi recupera, non ce l'ho abbastanza invece Che mi recupera il mio vigore e usare in modo tattico la forma dei monti insomma Per voi ovviamente il video sarà come al solito tutto bello tagliato quindi non dovrete sorbirvi le grandi scalate di Link Oh! Mi stava attaccare la capra ma il mio cane, il mio lupo mi ha salvato È un lupo? È un lupo? Ricordiamocelo Un attimo che mi riposo possiamo riprendere Piano piano chi va piano piano? Va? Va? Forse va? Lontano? Ma non per forza sano eh? Perché dipende quanto tu sia già sano di mente Oh! Cribbio! Mi ricordo di questo posto Allora ci riproviamo eh? Ci riproviamo Allora tu cane? Dove sei cane? Accuccia qui I polletti non lo sanno ma una di queste pietre? Mi sembra questa o forse quell'altra? Forse quest'altra? Dovrebbe essere un altro golem Infatti sì! Allora dobbiamo prendere lo spadone da soldato forse farà parecchio male a questa bestia Via! Sassorok maggiore! Già che ci siamo iniziamo a segnarlo sulla mappa Eh? Perché almeno noi sappiamo che qui c'è un boss grosso Non ho segnato quello che stava qua da qualche parte Dov'è che stava? Ah vedi io ero morto qui quindi lui sta qui tipo Adesso abbiamo segnato la posizione di ben tre sassorok se volete prenderla Eccola qua uno, due e tre Adesso però dobbiamo combatterci E quindi all'attacco polletti Mi arrampico sulla schiena Adesso inizio col colpo caricato appena si recupera dalla stamina Dalla perdita della stamina Eccolo lì Anzi via! Via! A casa! Quello dell'altra volta era tipo sulla schiena Era in una posizione davvero scomoda I rubini ma questi sono soldi oh Sono soldi questi li vendi E ci fai soldi oh E che mica stiamo a scherzare Bene lupo dove sei? Bravo tu io non ti faccio combattere contro ste bestie perché muori ecco perché Quindi puoi venire Andiamo Ma c'è un forziere qua su Non me ne ero proprio accorto Non solo un forziere ma anche un fungo E il fungo è un chiodone Che ti aumenta la difesa se lo cucini pensa Cosa c'è qui dentro? C'è un... Una rupia viola Bene adesso continuiamo la grande scalata verso la cima dei torri gemelli Dei torri? Ho rietto torri dei monti gemelli Ma che c'è sto con la testa? Non arriva mai questa cima Non arriva mai Manca poco Cristo Oh ce l'abbiamo fatta Oh il mio lupo è apparso dal nulla come sempre E non siamo ancora in cimissima in realtà Lupo Ah bravo Ciao capra 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 Ah non è ancora finita bisogna arrampicarsi ancora un po signori Ci siamo? Qui fa freddo ma perché qui fa freddo? Perché siamo molto in alto Adesso mi devo togliere per forza la mia armatura tunica del crepuscolo Come si chiama per mettere quella del freddo che è più brutta? Ma tu guarda Eccolo il sagrario Ma qui c'è anche il sasso Oh E c'era un koroku Pensa Però quel sagrario Sta sull'altro lato della montagna Io devo scendere qui sotto C'è il mio Eccolo lì Hai visto che roba? Hai visto? Il peo sa dove andare Cosa fare? Il sagrario di Shiben Shiasu Shibè Shibè Yasu Shibè Uh me lo ricordo questo qua Mmm Memorie gemelle Allora qui bisogna fare così Ci stanno delle sfere appoggiate all'interno di queste Queste portasfere come le vuoi chiamare Queste cose concave dove si appoggiano le sfere Io farò una foto al tutto grazie allo screen capture del Nintendo Switch Eccolo Plap Cattura eseguita Perché questa qua è la disposizione che dovrò applicare nel santuario opposto Quindi dell'altro monte gemello Quindi devo andare via qua Raggiungere l'altro santuario Mettere le sfere in quel modo Fare la foto prima all'altro santuario per mettere le sfere qui Hai capito no? Adesso fammi pensare però qual è l'idea o il metodo più intelligente Per arrivare all'altro lato del monte Se non buttandosi in questo modo In modo casuale Ma lì ci sono dei sassi Giacimenti minerari Vedi come spellono cose Spellono cose che hanno un prezzo Oh vai via Te ammazzo eh Tra l'altro dove è finito il mio lupo? Ah il mio lupo adesso non c'è perché sono entrato dentro il sacrario Un topazio Che topazio è un topo che è diventato zio Pensa Cristo sono appena morto Cristo Perché mi fanno scalare così tanto all'inizio del gioco Quando si ha così poca stamina Dai che manca poco Manca poco Eccolo Oh si Non ne potevo più Che cacchio vuoi tu Va un po' amore ammazzato Ma va un po' amore ammazzato Guarda vai Vai via Oh ma cosa c'è qui su? Delle statuette Ma su di una Ma qui c'è una mela Ma la prendo? Ma perché qui non c'è una mela? Ma guarda un po' Io quasi quasi prendo una mela E la metto qui Vediamo Perché mi sembra strano che solo uno abbia una mela Eh Guarda non ci ho preso Ma sono un grande Un genio proprio Ah io la prendo E la metto qui Vediamo un po' cosa c'è Oh Oh ma c'era un crogu Ma Guarda Come ho fatto ad arrivarci Non lo so Ciao ciao Adesso me le riprendo le mele però Perché ormai ti ho trovato Adesso possiamo entrare qui dentro Oh sentite signori Lasciatevi in pace Che questi voi le combatte sempre Oh Però quello c'è uno scudo che voglio Voglio il tuo scudo Quindi vai via 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 Scudo da viandante Una spada da viandante Anche però la mia borsa delle armi è pieno E quindi me ne vado Ciao Memorie gemelle Del sacrario di Shibeniro Shibeniro Adesso io vado a fare Oh non andare su ascensore Aspettami bravo Adesso andiamo a fare uno scream capture Da qua su in cima Poi andiamo a vedere quell'altro Come abbiamo detto Quindi prima di tutto Scream capture da qua su E uno due tre click Adesso andiamo a vedere Le nostre carissime scream capture Che sta qui nell'album Che tra l'altro Mi sembra che già le avevo fatte Visto Già le avevo fatte Però perché non sapevo se Ah no Non l'avevo fatte Come non detto Allora Questo è quello dell'altro Quindi Ce n'è Secondo Due Quattro Due Uno Cinque Due Quattro Due Uno Cinque Mi sembra Due Quattro Due Uno Cinque Due Quattro Due Uno Cinque Due Quattro Due Non Ah tu vai nel due Là Esatto Tu vai nel quarto di là Oh no Non ci ho preso Non ci ho preso Non ci ho preso Non è qui che dovevi andare Ma qui Tu vai qui Due Quattro Due Uno Cinque Quindi Il cinque Vai là Ciao E tu invece vai nel uno Nella mia testa L'uno è questo E quindi così ti dovresti aprire Papà Dalla sua Dalla sua Dalla sua Avete visto La mente di questo Paolo E' un genio Questo Paolo Un piccolo genio Grazie a questo Adesso voi mettete mi piace Non mi fate arrabbiare Perché Paolo Ha risolto l'enigma Ma Non ho ancora preso il forziere C'è sempre un forziere Nel sacrario Che diavolo Non è che sta lassù E non l'ho visto Andiamo un po' a vedere Andiamo su Grazie Qui da qualche parte Ci dovrebbe essere un forziere Perché c'è sempre un forziere In un sacrario Forse da questo Eccolo Ah È inculato Vedi c'è sempre un forziere In un sacrario Qui c'è la katana Della prontezza Che non mi entra nella borsa È troppo lunga sta katana Eppure io qualcosa di lungo Ce l'ho nei pantaloni Comunque sia Portiamo via sta katana Lasciamo la robaccia Per portarci la katana Ti prego Dammi il mio emblema Del treonfo E facciamola finita Ti prego Ora andiamo all'opposto Al sacrario Opposto Ovvero proprio quello lì Andiamo ad applicare Lo schema delle palle Anche qua Non so se a voi piace applicare Lo schema alle vostre di palle Se vi piace metterlo In qualche disposizione strana Tipo una un po' più su una Un po' più giù Sai quando te le aggiusti No? Tipo che stanno un po' più comode Beh Questo è lo schema delle palle 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 5 3 1 4 Ultimo 2 E non mi sono scordato di trovare il forziere Che già lo vedo Ecco si apre il sesamo qua Che è come chiamavano le porte un tempo Ecco perché c'erano sempre apriti sesamo Perché le porte una volta si chiamavano sesamo E il sesamo si chiamava porta E diceva adesso li condisco con due semi di porte E apriamo E sai che Marceme apri quel sesamo? Che me devo portare dentro i semi di porta? Facceva così Si parlava così un tempo Poi hanno detto sai che invertiamoli Che è più divertente Adesso apriamo questo forziere Che mi darà qualcosa che non mi entra Ovviamente La lancia dei colpi liberi La mia borsa è ovviamente piena Come non potrebbe altrimenti Abbottiamo via questo E riapriamo Per favore dammi anche tu un altro Emblema del trionfo Così la facciamo finita Ce ne manca solo uno per un altro potenziamento Vi rendete conto? Uno Miga 4 Miga 5 Uno vuol di uno Ma c'è un altro sacrario nelle vicinanze Quindi qui ce n'erano tre Da che lato? Fammi capire Di là Di là Di qua Forse più giù Devo scendere molto di più Devo scendere molto di più Per capire dov'è Di qua No E che non me lo ricordo proprio In quest'area ci sono stato un mese fa Con la mia pletro Eccolo Stava qui sotto Ma tu pensa Niente di così assurdo Bastava che scendevo fino in fondo Eccolo qua Questo è il sacrario di Ridai Ridai E a ridaglie A ridaglie Tu pensa se finalmente in questo episodio Abbiamo fatto tre sacrari in un episodio Subito potenziamo Mettiamo un'altra barra del vigore Pam Chiudiamo l'episodio da paura Che dire Il tempismo giusto? Mmm Chiaro Ah ecco come si faceva qui Allora qui con questo pulsante Si abbassa E casca la palla Come le palle che casca a noi Tante volte A noi maschietti Quello si appoggia lì E parte un trasportatore magico Giusto? Non è mai successo a voi Che a un certo punto Te casca la palla E parte un trasportatore magico Strano? Beh a me si Siete voi quelli strani A cui non succedono queste cose Ah qui c'è un altro Allora Anzitutto Ricordiamoci di guardarci intorno Per trovare i forzieri Al forziere lo vedo laggiù Quindi siamo a posto È in fondo proprio Io non me li ricordo Sti sacrari Allora così Scendi E poi però mi devo togliere Togliti 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 No No Riproviamo Allora mi devo togliere un po' prima Uno Due Ora Yes Tassaram Tocchi la bar Mi metto già sul trasportatore magico Che mi porterà dall'altro lato In modo magico appunto Vai Biiii Questo potrebbe essere leggermente difficile Ma secondo me neanche così tanto Proviamo Biiii Eccolo che fa il salto No Niente Riproviamo Eccolo Fa il salto Wow Amazing Dasaram Tocchi amazing Hai capito Hai capito zio Però adesso noi dobbiamo prendere il forziere Per prendere il forziere ci serve un barilotto Hai capito Ci servono i barilotti Che io appoggio lì sopra Così Pac Dopo che ho appoggiato il barilotto posso arrivare fino a qua Prendere il mio forziere E cosa c'è se non una bandana da scalata Questa è per scalare più veloce ma io adesso mi sento così tanto figo in questo modo Cioè senza Con il mio completo da crepuscolo Twilight Princess Non ci arrivo fino a là Nooo Via barile Via Hai visto come si fa E prendiamo il quarto E ultimo emblema per salire di un livello Prendere un'attacca E andare avanti Quindi adesso possiamo teletrasportarci Verso l'inizio Così da potenziarci subito Chiudere questo video alla grande Eccoci qui siamo riusciti a tornare in tempo Da questa statua Alla quale pregheremo E riceveremo il potenziamento Oh Pellegrino vedo che hai superato le prove Desidero il portavigore grazie Sì perché non posso crescere in cuore in questa playthrough ragazza Tu non lo sai Ma qui stiamo a fare dei video per Youtube Che probabilmente non vedranno mai la fine Lo usiamo soltanto per creare del contenuto su Youtube Cazzeggiare, giocare eccetera Portavigore o prezioso oggetto conquistato Bla 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 Pling Adesso posso correre più veloce No posso correre più a lungo non più veloce A Polletti come al solito grazie di essere stati qui con me Se questo video vi è piaciuto come gli altri spero Beh ricordatevi di mostrare un bel po' di amore Al pulsante qui sotto a forma di pollice in su E ricordatevi che questo era Electric Broom E ricordatevi di mostrare un bel po' di amore